Vaccini a livello nazionale, si discute se utilizzare già la scorta del 30% delle dosi. La Liguria segue i parametri del Ministero, ma altre regioni vaccinano di più. La pandemia ha aumentato il numero delle richieste ai servizi sociali di Chiavari, colpita la fascia media che prima non aveva problemi sotto pressione negli ultimi mesi, l'assistenza scolastica. Le indicazioni della CEI per la Settimana Santa, i riti condizionati dalla pandemia, ma i fedeli, saranno presenti. Si potranno usare i social media, ma nel rispetto della dignità delle celebrazioni. La Via Crucis di Genova si svolgerà dalla chiesa della Casa di Riposo Doria, luogo dove si è più sofferto a causa della pandemia. Domani sera in diretta su Telepace 3 a partire dalle 20.30. Sarà la pista di motocross di Calvari a San Colomano Certennoli a ospitare la quinta edizione del Reapalus Race. Quest'anno l'evento lascerà pallo per ragioni di sicurezza anti-contagio. Sport, il sessilevante calcio, prosegue la cavalcata in Serie D e investe sul settore giovanile. Le vittorie dell'Admo volle in Serie B e le imprese di Luna Rossa, i temi al centro di Sport Tigulio. Buonasera, buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Perché non utilizzare tutte le dosi del vaccino invece di accantonarne il 30% per salvaguardare la seconda somministrazione? È la domanda che scaturisce anche dopo il recente studio dei ricercatori dell'Università di Edimburgo e di Glasgow in Scozia, che dimostra come i due vaccini utilizzati di AstraZeneca e della Pfizer facciano crollare il livello di contagio e di ricovero anche dopo una sola dose. In Italia la regola del Ministero per le Regioni è di tenere una scorta prudenziale del 30%, anche se alcune, come si evince dal report del Ministeriale, hanno vaccinato molto di più. Per questo fattore la Liguria è terz'ultima, mentre altre Regioni hanno percentuali più alte. In queste ore la Lombardia chiede di utilizzare la sua scorta per far fronte alle difficili situazioni di alcune aree. In ogni caso il direttore sanitario dell'Asele 4, Francesco Orlandini, invita a non fare allarmismo e di avere pazienza. Sentiamo. Devo dire finora però che gli arrivi sono stati sostanzialmente rispettati e che quindi procediamo secondo un programma che, come dicevo, perlomeno per questa prima fase che riguarda gli over 80 dovrebbe essere conclusa intorno ai primi di giugno, fine maggio-primi di giugno. Quindi io non mi preoccuperei, non creerei eccessivo allarme, salvo eventi nazionali o addirittura internazionali e europei per quello che gli organi di informazione nazionale ci forniscono, noi siamo riforniti in maniera cadenzata, non in maniera massiva ma periodica. Io mi sentirei di lanciare un messaggio di tranquillità a tutti i nostri ascoltatori dicendo che con la relativa calma legata anche alla campagna vaccinale che credo potremmo raccontare come la più grande della storia, procederemo secondo i tempi che ci sono stati, che abbiamo definito e quindi sono fiducioso che tutto si risolverà per il meglio secondo un programma, ripeto, ben definito a tavolino. Restiamo ancora in tema di vaccini. In questa fase sono tante le domande, soprattutto da parte degli over 80. Tra queste, cosa succede se qualcuno non si presenta al turno di vaccinazione? La SEL4 ha studiato due soluzioni. Le vediamo. Se per qualsiasi problema una persona non potesse presentarsi al turno della vaccinazione, c'è una lista di sostituti o si rischia di perdere la dose? Questo è un problema molto importante perché, come ormai tutti sappiamo, questo tipo di vaccino che stiamo utilizzando ad mRNA, cioè un vaccino che ha una necessità di preparazione laboriosa e soprattutto deve rispettare la catena del freddo, quindi deve essere conservato a una temperatura molto rigida, questo non permette, come dire, l'utilizzo estemporaneo di dosi di vaccino e tantomeno l'avanzo rispetto alle fiale che ne contengono, dipende dal tipo o 6 o 10. Allora, in questo caso noi abbiamo predisposto un meccanismo per cui facciamo una richiamata, un recall al mattino degli anziani che sono in lista e questo ci permette di evidenziare se ce ne fossero alcuni che all'ultimo momento non sono in grado di poter essere vaccinati e quindi li sostituiamo con quelli del giorno dopo, quindi con quelli immediatamente successivi. Ma abbiamo anche costruito una sorta di panchina, tra virgolette, una sorta quindi di riserve che possono essere chiamati all'occorrenza e questo sia dal punto di vista degli anziani, sia dal punto di vista dei setting particolari dove operiamo, nell'ospedale piuttosto che nelle residenze sanitarie, rispetto agli ospiti o agli operatori stessi. Questo per fare in modo che non vada perduta nemmeno una dose, per un dovere morale, di buona gestione, ma anche per il rispetto di una norma che fa sì che il bene prezioso di cui in questo momento disponiamo, cioè il vaccino, sia davvero fruito da tutti, senza nessuno spreco. Sono 452 nuovi casi di coronavirus in Liguria, con 4.857 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati diramati da Alisa, calano di 9 i ricoveri, in totale sono 545, di cui 52 in terapia intensiva. Sono 7 i decessi registrati oggi, avvenuti in diversi giorni dal 9 gennaio al 25 febbraio. Le persone guarite sono 311. In Asle 4 i nuovi casi sono 29, aumentano di 2 i ricoveri, in totale sono 38, di cui 6 in terapia intensiva. E proseguono le vaccinazioni anti-covid in Liguria. Oggi sono state somministrate 3.459 dosi, in totale 41.048 persone hanno ricevuto la doppia dose che ricordiamo con i vaccini di Pfizer-BioNTech e di Moderna è necessaria per ricevere un grado ottimale di immunizzazione. Sono 111.586 le dosi somministrate in totale nella nostra regione in Asle 4. Oggi sono state somministrate 318 dosi. Le persone che hanno terminato, e quindi hanno avuto la doppia inolucazione, sono 4.051. Sono invece 11.078 le dosi somministrate in totale nella nostra Asle 4. Dati più precisi sull'andamento dell'epidemia Casarza-Ligure a chiederli è il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, Andrea Telchime, che ha aggiunto che il dato dei soggetti positivi nel Comune è insufficiente e che questo viene pubblicato sulla pagina istituzionale in maniera discontinua. Il capogruppo dice di aver fatto richiesta al Sindaco dei dati completi e di non aver ancora ricevuto risposta. In occasione dell'apertura dei nuovi uffici in piazza di N.S. dell'Orto a Chiavari, i servizi sociali hanno fatto il punto di un anno di intenso lavoro. La pandemia ha aumentato i bisogni e le richieste e ha spinto gli operatori a trovare nuove strade di sostegno. Il servizio che abbiamo realizzato. Abbiamo visto crescere la domanda anche da parte di quegli nuclei familiari, di quelle persone che forse fino a qualche anno fa non si rivolgevano ai nostri servizi. La pandemia ha fatto lievitare il numero di richieste ai servizi sociali di Chiavari. Ormai è noto, ci sono fasce che prima non avevano problemi e in poco tempo ne hanno dovuto affrontare di gravi. Quella fascia che aveva lavori magari saltuari o comunque non continuativi di tutto l'anno, in questo momento si è trovata in grave difficoltà. Per quanto riguarda una percentuale numerica, per far capire alla cittadinanza quanto sta succedendo, lo facciamo, ma non lo facciamo subito, lo facciamo nel momento in cui capiamo che ne stiamo uscendo, in modo che sia un riportare dei dati completi e non approssimativi. Il personale del comune, così come è accaduto altrove nel Levante, si sono dovuti reinventare o hanno dovuto riconvertire i servizi. L'educativa, l'appoggio scolastico, l'assistenza domiciliare, quindi abbiamo dovuto ripensare una modalità diversa di svolgimento dei nostri servizi e quindi in maniera molto veloce anche ripensare a una riorganizzazione di quello che poteva essere offerto alla cittadinanza. La scuola è stato un altro settore molto colpito e affrontato con impegno. Naturalmente la ricerca e l'adeguamento degli spazi ha inciso molto, ma così l'aggiornamento dei docenti o anche l'informatizzazione più completa. Tuttavia, dice l'assessore Maggio, Chiavari è il comune Ligure che ha risolto meglio questi problemi. La situazione, ripeto, è sotto controllo anche da un punto di vista dei trasporti. Chiunque voglia verificare, basta che al mattino verso le 9, 9 e un quarto, venga davanti alla stazione e si accorge che ci sono all'interno della stazione i volontari. Fuori della stazione ci sono i nostri vigili, ci sono i carabinieri e controllano tutto il percorso fino alle scuole superiori. È arrivata questa mattina a Camogli la gru che sarà utilizzata per la messa in sicurezza del cimitero dopo il crollo di una parte di mare provocata dal cedimento della falesia. Uscita al casello di Sessi Levante ha percorso tutta l'Aurelia fino a raggiungere la cittadina del Golfo Paradiso. Vedete le immagini che si riferiscono appunto a quello che è accaduto questa mattina. Domani è previsto l'arrivo di un altro mezzo simile. Utilizzando entrambi sarà possibile raggiungere dall'alto la zona a rischio crolli per prelevare i feretri ancora presenti nelle tombe e iniziare l'operazione di messa in sicurezza dell'area. Nel contempo sono a lavoro lungo via Jacopo Ruffini e anche i vigili del fuoco di Genova con l'autoscala si sono calati lungo il versante in corrispondenza del Belvedere Gente di Mare per posizionare i sensori che dovranno monitorare eventuali movimenti franosi. Saranno attivi da domani. Le operazioni di recupero in mare dei feretri potranno iniziare nel fine settimana o al più tardi lunedì una volta che sarà garantita la sicurezza del versante interessato dal cedimento. È stato posizionato un impianto semaforico Via Ruffini resterà chiusa al traffico durante il giorno dalle 18 alle 8 del mattino la stada sarà riaperta a senso unico alternato. Rapallo ha ricevuto circa 2 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico e saranno usati per il torrente San Francesco. Si tratta di un finanziamento statale da 1.995.000 euro del Bando Nazionale per interventi strutturali di messa in sicurezza del territorio. Saranno impiegati per i lavori di rifacimento della copertura del torrente 750.000 per il completamento del primo stralcio 1.245.000 per la realizzazione del secondo. Lunedì 8 marzo è prevista l'apertura delle buste per la gara di affidamento dei lavori. È un contributo molto rilevante per completare il primo lotto dell'opera grazie al quale riusciamo a ridurre sensibilmente la quota di finanziamento dell'opera che spetta al Comune. Questo ha sottolineato l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio. Siamo a Rapallo il Comune si è svolto un primo incontro tra l'amministrazione e i rappresentanti del Consorzio Infratec che si è giudicato il primo stralcio del lavoro di messa in sicurezza del lungomare e del centro abitato nell'ambito dell'intervento di bonifica del Golfo. Ne è seguito un sopralluogo sul posto. Gli interventi strutturali secondo quanto previsto dal progetto prevedono il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di protezione del lungomare e anche del centro abitato. La riprofilatura della scogliera della passeggiata mare il ripascimento della spiaggia dei Cavallini e il ripascimento della diga degli Ampoixi in zona Porticciolo dove inoltre è prevista ex novo la presenza di un faro. In più nell'area dell'antico Castello al Mare sarà realizzato un molo utilizzabile anche per l'attracco delle imbarcazioni da di porto. Il sindaco Carlo Bagnasco e l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio presenti all'incontro hanno chiesto ai rappresentanti del Consorzio il rispetto delle tempistiche in particolare per quanto riguarda i lavori a terra per non gravare eccessivamente sulla viabilità cittadina. Passiamo a Sessi Levante il Comune si è aggiudicato un nuovo ulteriore finanziamento dedicato agli interventi di messa in sicurezza del territorio assegnato dal Ministero dell'Interno e dell'Economia. arriveranno 1.680.000 euro che saranno destinati per interventi a Villa Libiola 400.000 euro per il consolidamento strutturale dell'area di San Nicolò 300.000 euro per il primo lotto di un intervento in via Monsignor vattuone 980.000 euro e in quest'ultimo caso si procederà con la realizzazione di un nuovo canale che consenta una mitigazione del rischio idraulico della zona particolarmente vulnerabile agli allagamenti. Si protrarrà fino al 13 di marzo la chiusura in entrata e in uscita del casello autostradale di Chiavari lo fa sapere il sindaco Marco Di Capua che nella giornata di ieri ha fatto il punto in videoconferenza con i tecnici di autostrade. I lavori alla Galleria della Moranda proseguono e a seguito delle ultime fasi di lavorazione si è reso necessario rimodulare il piano di attività per consentire il rafforzamento di alcune porzioni della cornice sollecitate dalle ultime fasi di demolizione propedeutiche alla posa in opera del nuovo rivestimento. La chiusura continuativa anche nei fini di settimana consentirà di mantenere l'attuale data prevista di fine lavori e la conseguente riapertura definitiva quindi per il 13 di marzo quindi non è più il 27 di febbraio ma slittato tutto al 13 di marzo. Sono state diffuse le indicazioni del CEI per la settimana santa per il secondo anno consecutivo i riti saranno condizionati delle regole anti pandemia ma quest'anno i fedeli potranno partecipare alle celebrazioni rispettando ovviamente le norme vigenti. Vediamo. Anche quest'anno i riti della settimana santa saranno condizionati dalla pandemia. La CEI ha diffuso le indicazioni su come viverla al meglio. La novità rispetto al 2020 quando ci fu il lockdown è che i fedeli potranno essere presenti. Una presenza che dovrà avvenire nel rispetto dei decreti governativi riguardanti gli spostamenti e le misure precauzionali. Così anche il rispetto del coprifuoco dovrà essere preso in considerazione nel fissare l'ora delle celebrazioni messe particolari che non potranno essere ripetute nell'arco della giornata. Così anche per le limitazioni dei post in chiesa la CEI ricorda la possibilità di ricorrere all'uso dei social solo se strettamente necessario o realmente utile. Dunque si ha la possibilità della trasmissione online della celebrazione ma con dei paletti da rispettare. L'eventuale ripresa in streaming dovrà avvenire in diretta e mai indifferita e dovrà essere curata nel rispetto della dignità del rito liturgico. La nota della CEI invita poi a privilegiare la diffusione mediatica in particolare delle celebrazioni presiedute dal vescovo incoraggiando i fedeli impossibilitati ad andare nella propria chiesa a seguirle come segno di unità. Dunque nello specifico per la domenica delle palme si dovrà usare la seconda forma prevista dal messale romano evitando gli assembramenti dei fedeli e in nessun modo ci dovrà essere consegna o scambio dei rami d'ulivo. Poi la messa a Crismale con l'invito a celebrarla la mattina del giovedì santo o il mercoledì pomeriggio comunque entro il tempo di Pasqua mentre l'anno scorso venne spostata alla fine di maggio. Alla messa in cena a Domini non ci sarà la lavanda dei piedi mentre per il venerdì santo la CEI invita i vescovi ad introdurre nella preghiera universale un'intenzione per chi si trova in situazione di smarrimento per i malati e per i defunti. L'atto di adorazione alla croce con il bacio sarà limitato al solo presidente della celebrazione. Infine la veglia pasquale che potrà svolgersi in tutte le sue parti come previsto dal rito purché in orario compatibile con l'eventuale coprifuoco. Domani il tradizionale appuntamento della Via Crucis cittadina di Genova si svolgerà nella chiesa di N.S. della Misericordia e San Giovanni Battista accanto alla Casa di Riposo Doria. La scelta è stata dettata dalla volontà dell'Arcivescovo Marco Tasca di essere vicino ai luoghi dove si è più sofferto a causa della pandemia. Da casa sarà possibile partecipare al momento di preghiera grazie alla diretta su Telepace 3 al canale 115 e sul canale YouTube del Cittadino. Vediamo. Lascia la scalinata delle Caravelle in Piazza della Vittoria a Genova per spostarsi in una casa di riposo uno dei luoghi simbolo della sofferenza di questo tempo di pandemia. La tradizionale Via Crucis genovese prenderà via domani sera alle 20.30 si svolgerà interamente all'interno della chiesa di N.S. della Misericordia e San Giovanni Battista che si trova all'interno della casa di riposo Doria nel vicariato Medio Alto Bisagno ad accompagnare la preghiera lungo le 14 stazioni le immagini di un artista genovese e le riflessioni proposte da coloro che sono stati in prima linea nella lotta del covid medici infermieri e operatori sanitari l'arcivese ha voluto che la Via Crucis si svolgesse appunto in una realtà sanitaria quindi dove ci sono persone anziane o malate anche proprio per richiamarci un attimino questo tempo di pandemia e pertanto anche le riflessioni delle stazioni tengono conto delle varie fragilità dell'uomo delle persone anziane malate delle persone che hanno vissuto stanno vivendo la pandemia e in modo particolare anche di tutte quelle persone che nel silenzio quotidiano lavorano vicino ai malati La Via Crucis non sarà aperta al pubblico ma sarà possibile parteciparvi seguendola da casa attraverso Telepace 3 al canale 115 e il canale Youtube del Cittadino a partire dalle 20 e 30 le diverse riflessioni avranno come protagonisti alcuni personaggi della Sacra Scrittura come Pilato il Centurione il Passante il Soldato o un Miracolato legando la loro storia all'attualità Ho cercato un po' di richiamare queste figure un po' come se ci parlassero da vivo in questo momento e ci interpellassero sulla nostra vita su come stiamo rispondendo vivendo di fronte a quello che è il messaggio di Gesù o di fronte a quello che è la sofferenza stessa di Gesù che ha dato per noi Da casa si potranno leggere sullo schermo le riflessioni impreziosite dalle icone realizzate per l'occasione un modo per aiutare i fedeli a seguire in modo più partecipe anche chi è a casa attraverso immagini e scritto si potrà partecipare e rendere più attenta anche la concentrazione e la preghiera perché questo penso sia molto importante poi l'arcivescovo concluderà ogni stazione con una preghiera che racchiude un po' il significato e il concetto di quella stazione e di quel momento di preghiera sarà Nadine Gordimer scrittrice sudafricana che ha lottato per tutta la vita contro la politica razzista dell'apartheid la protagonista di nuovo appuntamento con il bandolo social a partire da domani venerdì sulle pagine social dell'associazione si parlerà dell'attività della scrittrice premio Nobel per la letteratura nel 1991 e deceduta nel 2014 all'età di 90 anni sono stati tanti e vari i modi in cui le persone hanno cercato di ingannare il tempo durante la permanenza a casa a causa del lockdown e delle restrizioni per il coronavirus Andreino Croce detto anni nella scorsa primavera e l'autunno ha raccolto alcune memorie legate alla sua Chiavari e al mare in due pubblicazioni vediamo storie di mare e di pesca racconti legati allo sport e tanta Chiavari c'è soprattutto questo ma non solo nelle pillole di memoria di Andreino Croce due fascicoli che raccolgono vari ricordi riportati in modo sparso rispettivamente nel lockdown della scorsa primavera e in autunno un modo di ingannare il tempo durante il lockdown per l'autore e un'occasione per i lettori di immergersi nella storia recente del nostro territorio storie raccontate in prima persona dal punto di vista di chi le ha vissute di percorse non solo a parole ma anche attraverso tante immagini e foto d'epoca uno strumento in più per vedere com'è cambiata Chiavari in tutti questi anni porto dietro una grande nostalgia di una Chiavari del passato ma questo non vuol dire niente per carità il mondo evolve il mondo cambia resta il fatto che io vedo che questi per quello che ho scritto e per quello che poi mi capita di ricordare con persone che mi conoscono vedo che questo sentimento di come dire di nostalgia è allargato Chiavari al centro ma c'è anche molto altro spazio anche alla Corsica e alle vacanze in famiglia tra gli aneddoti ripresi nei fascicoli ce n'è uno in particolare legato all'attualità si tratta del racconto di una pesca straordinaria avvenuta a largo del golfo di Genova un'area compresa tra due picchi sottomarini per la quale una recente pubblicazione universitaria ha chiesto l'area marina protetta questo documento onestamente che lo abbiamo atteso 47 anni con 70 amidi abbiamo portato a casa 450 kg di cernie di fondale da 20, 25, 30 kg l'una e altri 400 kg di pesci quindi 850 kg di pesci questa cosa è stata clamorosa una serie di spettacoli in streaming prodotti esclusivamente a Santa Margherita Ligore così l'amministrazione comunale vuole sostenere il settore della cultura e gli artisti messi in ginocchio dalla pandemia abbiamo stanziato 5 mila euro che saranno ripartiti tra una serie di artisti amici di Santa Margherita Ligore spiega così il sindaco Paolo Donadoni la scelta ha seguito la logica della collaborazione la lista di nomi è in corso di definizione stiamo contattando coloro che ormai con continuità si esibiscono danni sui nostri palchi che hanno costruito un rapporto di amicizia con la nostra città gli eventi saranno gratuiti per gli spettatori e saranno fruibili sul canale social del comune un 37enne di Napoli già conosciuto alle forze dell'ordine è stato identificato e denunciato per truffa dai carabinieri di Sesti Levante l'uomo va messo in vendita su internet un telefono cellulare e ricevuto la somma di 360 euro da uno studente sestrese di 23 anni che non ha mai provveduto alla consegna dell'oggetto ha segnato il premio miglior uliveto di Chiavari a Massimo Solari guida la classifica degli otto produttori di olio premiati in seguito a una selezione fatta da tecnici del settore appartenenti alle organizzazioni di categoria Coldiretti e Cia l'iniziativa nata all'interno del concorso premio Levi 2020 vuole valorizzare il patrimonio ambientale cittadino e riconoscere l'operato di chi si prende cura del territorio ai vincitori è stato consegnato un buono spesa per l'acquisto di attrezzature agricole Cambia location la manifestazione sportiva Reapalus Race in un tempo molto difficoltoso anche per quanto riguarda il mondo dello sport gli organizzatori dovranno rinunciare alla piazza di Rapallo inadatta a ospitare il pubblico non si rinuncerà però all'evento giunto ormai alla sua quinta edizione vediamo il servizio che abbiamo realizzato A Rapallo non ci sono spazi adeguati per ospitare in sicurezza nel rispetto delle norme anticontagio la manifestazione Reapalus Race una amara constatazione alla quale si è arrivati dopo aver svolto approfondite analisi e tentato di approntare modifica l'evento La Reapalus Race è una manifestazione autorizzata però purtroppo come tutte le manifestazioni in questo momento sul territorio italiano è vietata la presenza di pubblico per cui non era possibile gestire questa limitazione nella passeggiata mare di Rapallo abbiamo lavorato a lungo con il comune con gli enti preposti con la pubblica sicurezza per trovare una soluzione fino all'ultimo sembrava possibile fare l'evento a Rapallo in passeggiata mare purtroppo alla fine c'è stato vietato di rendere possibile la quinta Reapalus Race L'amministrazione comunale ha assunto l'impegno qualora la situazione sanitaria lo permetta di realizzare in futuro un'ulteriore tappa della manifestazione nuovamente a Rapallo nel frattempo la società Sport Eventi ha ritenuto opportuno scegliere per l'edizione di marzo una location diversa la quinta Reapalus Race si terrà il 20 marzo nel sito della pista di motocross a Calvari a San Colombano Certenoli qui siamo in un terreno privato possiamo assolutamente essere tranquilli nella assoluta assenza di pubblico e possiamo garantire la sicurezza per tutti i partecipanti dal punto di vista della situazione Covid come del resto avremmo potuto garantirla anche a Rapallo il problema era appunto la presenza di pubblico per cui ragazzi vi invito a seguire gli aggiornamenti ci saranno delle specifiche un po' diverse per quanto riguarda la logistica degli accrediti proprio per garantire al massimo tutte le misure anti-Covid previste in questo periodo e ci vediamo come aggiornamenti sempre sulle nostre pagine social su Facebook su Instagram e sul nostro sito www.reapalusrace.it un caro saluto da Andrea grazie a tutti passiamo allo sport il calcio la Serie D una vittoria una sconfitta nella 22esima giornata del campionato di Serie D per le tigulline impegnate nel girone A il Sessi Levante che ieri giocava in casa del Chieri ha fatto bottino pieno vincendo 2-1 le reti al 13esimo del primo tempo in vantaggio ai corsari su calcio di rigore realizzato da Selvatico pareggio di padrone di casa al 38esimo con spera raddoppio per il Sestri che viene segnato da Puricelli all'undicesimo del secondo tempo sconfitta 2-1 invece la Lavagnese che ospitava Riboli l'Arconatese Bianconeri in svantaggio dopo un minuto di gioco con la rete messa a segno da Menegazzo il raddoppio dell'Arconatese è arrivato al decimo della ripresa con Foglio i Lavagnesi hanno accorciato al ventesimo del secondo tempo con Buongiorno su calcio di rigore la classifica Lavagnese ferma 28 punti il Sestri Levante sala 38 quarto in classifica pare punti con il Pondonà prossime partite proprio domenica 28 il Sestri Levante ospiterà il diretto antagonista in classifica il Pondonà mentre la Lavagnese giocherà in trasferta a Legnano Sport Tiguglio nella puntata in onda questa sera su Telepace 1 al canale 15 si parlerà del settore femminile del Sestri Levante calcio delle imprese di Luna Rossa in Coppa America del campionato di Serie B di pallavolo che vede protagonista l'Amis Admo Volley Lavagna ospite della trasmissione curata da Roberto Costa Leda Lore dirigente settore femminile del Sestri Levante calcio Paolo Mancuso direttore sportivo del Sestri Levante calcio Vittorio D'Albertas velista Simone Cremisio e Luca Rossi rispettivamente allenatore e giocatore della scuola federale Amis Admo Volley di Lavagna qualche anticipazione nel servizio che segue Ti aspettavi un inizio di campionato così insomma pimpante dalla tua squadra? Beh noi abbiamo iniziato con la sconfitta di La Spezia contro una buona formazione sicuramente costruita per fare grandi risultati e ci eravamo detti di costruire la salvezza tra le tra le muramiche del parco Tiguglio quindi noi puntiamo tutto su fare punti in casa nelle tre gare che abbiamo giocato in casa fino ad oggi abbiamo tenuto tre vittorie quindi direi che va più che bene però vedendo il livello del campionato e vedendo la crescita dei ragazzi io credo che magari potremmo anche andare a dar fastidio anche in trasferta Paolo un grande Sestri ieri colchieri un grande un grande Sestri un buon primo tempo passati in vantaggio su un rigore di Salvatico poi abbiamo preso questo questo pareggio su una grandissima punizione loro e poi abbiamo fatto un secondo che i ragazzi comunque volevano vincere a tutti i costi siamo riusciti a a fare questo gol e poi abbiamo sofferto e niente siamo siamo contentissimi stiamo facendo un ottimo campionato forse va al di là delle nostre aspettative quindi siamo ancora più contenti Leda il Sestri Levante si arricchisce quest'anno da quest'anno con il settore femminile sta nascendo veramente qualcosa di importante per il nostro territorio e auguro a queste bambine che ci hanno scelto di crescere e divertirsi e noi speriamo di non deludere le loro aspettative quindi ringrazio le loro famiglie che hanno deciso di avvicinarsi a questa realtà del calcio a Sestri Levante e grazie bene tutto questo ricordatevelo 21.10 con Sport Tiguglio come sempre diretto dal nostro Roberto Costa finisce qui il nostro telegiornale il prossimo appuntamento con le informazioni come sempre rinnovato domani alle ore 12.45 con Tiguglio oggi io mi fermo qui grazie per la vostra cortesa attenzione e vi lascio alla programmazione serale della nostra emittente una buona serata a tutti arrivederci